Dal 2002 in poi, ma soprattutto nel periodo 2007-2009, c'è stato un picco di concentrazioni non plasmatiche, ma di numero di molecole che andavano fuori dalla protezione proiettuale, quindi è stato un periodo in cui arrivavano molti farmaci generici, soprattutto nell'ambito di quei farmaci che servono per le terapie più importanti che si fanno in ambito territoriale. Ogni anno e in quel periodo lì, adesso chiaramente siamo in una fase di caduta di quella curva di numero di principi attivi che vanno fuori brevetto per questa tipologia di farmaci, come dire, delle terapie soprattutto territoriali. Però in quegli anni lì si poteva stimare che a fronte di 40-50 principi attivi che andavano fuori brevetto in un determinato arco di tempo, in un anno, il sistema sanitario nazionale poteva anche calcolare qual era il risparmio sulla spesa farmaceutica, quindi 500 milioni di euro fino a 700-800 milioni di euro all'anno, cifre che si andavano a sommare rispetto al budget, cioè a quello che il governo ogni anno mette a disposizione per la spesa farmaceutica. E questo ha fatto sì che noi per un periodo molto lungo abbiamo potuto mantenere un bilancio, cioè a dire il sistema sanitario è stato in grado di pagare, di coprire tutto il fabbisogno di spesa per farmaci all'interno di un tetto che era stato dato di spesa, che viene dato peraltro ogni anno dal governo. Quindi diciamo le risorse in più che arrivano rispetto al budget che viene messo a disposizione dalla legge di bilancio ogni anno viene da questo tipo di risparmio e assicura, come dire, che si riesca a rientrare con i conti. Naturalmente adesso, in questo periodo storico, stiamo capendo a posteriori qual è l'importanza dei risparmi che hanno, diciamo, sul sistema globale del sistema sanitario nazionale che questo meccanismo ha assicurato. Perché oggi che, come dire, non ci sono più tanti farmaci equivalenti che vanno, diciamo, che entrano sulla, sulla, diciamo, di farmaci che insistono sulla spesa territoriale, ma piuttosto, diciamo, il grosso del consumo di farmaci si è spostato in ospedale, dove non c'è uno stesso meccanismo. Perché, diciamo, i farmaci generici in ospedale vengono usati meno, perché sono altre tipologie di farmaci che vengono, che vengono usate più spesso in ospedale, farmaci ad alto costo, eccetera. Poiché non c'è, non ci sono gli stessi meccanismi che, che riguardano la spesa ospedaliera, che hanno operato sulla spesa territoriale da un paio d'anni a questa parte il sistema è in sofferenza. Quindi, prima, nei primi sei mesi della, del 2016, questa, insomma, un po' di di numeri, un po' di politica, ma detta in termini molto semplici, abbiamo, abbiamo perso, siamo andati in rosso rispetto al, al budget, come era successo nei due anni precedenti. Quindi diciamo che, eh, purtroppo, eh, come dire, il, eh, il meccanismo che ha assicurato un equilibrio per, per tanti anni legato all'introduzione dei farmaci equivalenti, allora, alla loro diffusione nella, nella medicina territoriale, adesso, diciamo, sta avvenendo un po', un po', sta avvenendo un po' meno, perché, diciamo, un, non c'è uno stesso meccanismo di risparmio che riguardi la, la spesa ospedaliera. Così, un po' di, di politica del farmaco, ma tanto per, eh, far capire quali sono le problematiche, perché è importante che, che ci siano dei meccanismi di questo tipo per, il, il, come dire, per il mantenimento in vita del, del sistema sanitario nazionale, soprattutto, voglio dire, adesso stiamo parlando della spesa farmaceutica, che è solo una parte, di, di tutto il, il problema complessivo della, della spesa per la salute, però, come dire, una parte, eh, rilevante per, per la popolazione generale. Questa è una necessità che è tanto maggiore, quanto più si affacciano sul mercato farmaci ad alto costo, poiché, eh, c'è questo meccanismo che dicevo prima di, di tetti di spesa, cioè a dire, noi abbiamo un budget, tanto è, diciamo, la quantità di denaro che si può spendere, no? Ed è un, diciamo, è finito, nel senso che ci sono dei limiti a questi tetti di spesa, no? E allora, se noi spendiamo di più da una parte, eh, dobbiamo risparmiare dall'altra. Beh, eh, pensate un attimo che la stragrande maggioranza dei farmaci per patologie molto frequenti, diabete, ipertensione, ipercolesterolemia che noi usiamo, oramai sono tutti a brevetto scaduto. E per fare un confronto a volo, alcuni di questi farmaci potevano costare prima della perdita brevettuale 20, 25, 30 euro per un mese di terapia, oggi lo stesso farmaco, il suo equivalente, lo stesso principio attivo, può costare 3, 4 euro. Quindi abbiamo un ordine di riduzione di spesa che supera anche l'80, 85 per cento. Immaginate che non fosse mai esistita una perdita di brevetto e che a distanza di 20 anni questi farmaci continuassero a essere venduti, farmaci di larga prescrizione, al costo originale. Oggi forse non avremmo potuto assicurare ai pazienti con epatite da virus C una liberazione dal virus che oggi è possibile in oltre il 95 per cento dei casi con i nuovi farmaci sicuri, tollerabili, benissimo, costosissimi. Forse saremo stati uno di quei paesi in cui non ti puoi permettere il farmaco nuovo salvavita perché stai ancora pagando a prezzo pieno farmaci che hanno già dato tutto quello che dovevano. Quindi in questo senso quello che si diceva di liberare le risorse può voler dire assicurare farmaci innovativi, ma ripeto in alcuni casi come questi rivoluzionari con altissimo costo a chi ne ha bisogno. Quindi è un concetto molto importante soprattutto per chi si trova magari ad affrontare patologie impegnative e importanti, mettiamo a caso le patologie rare, mettiamo a caso patologie oncologiche importanti, quindi diciamo il riuscire a ridurre i costi del servizio sanitario su farmaci che ormai hanno un uso consolidato e ben noto e quindi possiamo eventualmente anche riuscire appunto scadendo il brevetto ad averli a dei costi inaccessibili, riuscire in questo caso con queste risorse risparmiate poter dare accesso a terapie innovative. Questo è un concetto molto importante. È quello che diceva prima il professore, pericolosamente stanno finendo i farmaci a brevetto scaduto o da scadere perché sono nati in un arco temporale definito e quindi il futuro scenario comincia a essere un po' più grigio, a meno che anche su questi farmaci più complessi, più tecnologici, biotecnologici, di alto costo per i quali arrivano i cosiddetti biosimilari, non si riesca a governare in una maniera altrettanto efficace. Rischiamo da qui a cinque, dieci anni di non poter più sostenere la spesa farmaceutica come oggi è. Quindi oggi una chiave potrebbe essere quella di incentivare chi non usa, utilizza ancora generici a spostarsi verso appunto il farmac equivalente in modo da riuscire comunque ad avere quella spinta che manca dalla scadenza di brevetti. Certo perché poi questo mette in moto i meccanismi della concorrenza, più riesco a scendere di prezzo più sono competitivo, più il prezzo scende, se c'è poca competizione anche il prezzo a brevetto scaduto stenta a raggiungere i livelli più bassi.